Il messaggio Il messaggio diventa senza sapore, senza forza, si indebolisce, la testimonianza sarà debole. Ma questo succede quando io non accetto l'unzione, non accetto il sigilo, non accetto quella caparra dello spirito che è in me. E questo si fa quando io non accetto il sì in Gesù Cristo.